Ciao, abbiamo realizzato un porto di sviluppo MicroPython con l'Ant. Vuoi sapere come? Non perdere un secondo! In questo periodo abbiamo testato le capacità l'Ant. Oltre che ci siamo in mente di molti progetti per testarlo, abbiamo parlato di partire con voi in questa serie di video che chiamiamo l'Ant Lab. Usando l'Ant, abbiamo creato l'Arcobaleno, un porto di sviluppo MicroPython di sviluppo MicroPython. Questo è un porto simile ad Arduino, abbastanza semplice per programmiare e si usa un linguaggio di programma molto promesso, MicroPython. Questo video ha stato realizzato grazie a vostre donazioni e grazie a PCBWay, un manufattura di PCB professionale che ci ha sponsorato. Ora, vediamo il design. Per il design dell'Arcobaleno, abbiamo usato un microcontroller STM32F411 che ha già stato usato in altri porti di sviluppo MicroPython. Oltre che MicroPython ha un sistema di file integrato, abbiamo aggiunto al nostro porto sia il USB e il SD card reader, per caricare il programma facilmente. Quando vuoi integrare un porto USB nel vostro progetto, è una buona pratica per proteggere il vostro microcontroller da dischargi elettrostatici e delle spiega di volta. Per questo motivo abbiamo aggiunto un IC di protezione di ESD al nostro design. Quando abbiamo soldato il prototipo, non avevamo il circuito di protezione di ESD quindi lo passavamo momentaneamente con un paio di resistori di zero ohm. Inoltre, un LED RGB non potrebbe essere messo in Arcobaleno, quindi lo aggiungiamo. Nel design abbiamo anche deciso di esposare la taglia digitale, E2C, l'utilizzo di TSPI e gli altri IOS sulle pinze periferie. Vediamo un guardo al layout, dove puoi osservare perché questa scheda è un buon testo per l'ultimo. Come potete vedere il pacchetto del microcontroller ha una distanza interpa di 0.2 mm. E per farlo più difficile abbiamo usato molti piccoli tratti, oltre a 0.3 mm. Oltre a parlare di alcuni tratti e tipi per il layout. Quando vuoi realizzare un circuito con il CNC è importante occupare delle dimensioni di vaias. Per questo progetto abbiamo deciso di usare luci con un diametro di 0.5 mm. più importante. Oltre che le vaias non sono metallizzate, i pinheathers devono essere collegati sull'interno dove saranno sottolineati. Nel nostro layout mettiamo i tratti di connessione sull'interno. E non mettiamo le vaias sotto circuiti integrati perché l'attività del piacere viaggio rende il circuito integrato SMD impossibile di piacere. Inoltre, per rispondere la distanza minimale di 0.2 mm tra i tratti e i padri abbiamo usato il DRC inoltre. Quando abbiamo considerato la fase di design completata abbiamo usato la mano per fare un prototipo. se vuoi sapere come abbiamo fatto abbiamo linkato nella descrizione e nelle cartelle i video che parlano di questo tema. L'unica differenza dalla procedura usuale è che abbiamo aggiunto una fase di pre-drill per tutti i luci per aiutare la piccola drill a essere centrata durante la drill inoltre. Abbiamo anche testato un motore di spinnale di 1500 kV e alcuni parametri di velocità e di accelerazione se vuoi usare il G-code che vi share con voi prendete questo in account e leggere il README Angelo guarda ho finito il primo prototipo oh bello ho trovato qualche connetto mi provo ok ok questo è qui dovrebbe essere qui e questo va fuori no guarda questo è troppo 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 bisogna farlo più grande posso farlo? sì posso ok Angelo guarda ho finito il secondo prototipo sembra bene mi provo ok ah guarda qui non puoi soldare il connetto di batteria posso farlo ok 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 con il prototipo realizzato abbiamo soldato tutte le parti abbiamo connetto via usando piccoli e poi passavamo alla fase funcionali funcionali usando micro python usando micro python abbiamo potuto testare la maggior parte delle funzionali periferali in metà un'ora più o meno in questo caso abbiamo usato un E2C per guidare un OLED lcd e se e se ti chiedevi perché chiedi chiediamo questo arcobaleno ecco l'ultimo è molto buono per la fase prototipo ci ha salvato un po' di tempo e abbiamo corretto il proprio design e messaggi in modo facile se vuoi produrre il tuo PCB puoi usare un servizio come PCBWay l'abbiamo fatto per il nostro arcobaleno e sembra professionale abbiamo soldato anche questo luogo e testato e funziona bene siamo molto satisfezzi con i risultati del tenente cosa pensate? avete mai trovato un PCB complex? partitevi la tua esperienza con noi abbiamo visto che la maggior parte dei tuoi non sono abbiati al nostro canale quindi chiediamo di abbiati perchè questo ci ha dato l'opportunità di fare un contenitore migliore per condividere con voi come sempre partiremo tutti i file di progetto ma in un posto diverso più informazioni nella descrizione grazie per la visione grazie PCBWay e per favore abbiati grazie a tutti